Buonasera amici, da Leonardo Appetitoso che vi manda un grande saluto questa sera e soprattutto volevo dire a tutti quanti, voi mi raccomando cerchiamo di stare uniti che presto ne verremo fuori da questa situazione, l'importante è essere uniti, comportarsi così come ci stanno descrivendo e lo so che è noioso stare in casa, qualcosa pur dobbiamo inventarcela, come me stasera, io stasera non vi preparo alcuna ricetta, ma vi volevo dedicare una canzone una canzone di Eros Ramazzotti, anche quello fa parte delle pietanze, con delle note che cadono come se piovessero, vai con il grande Eros, scusami Eros non voglio offenderti ma mi voglio divertire, non è? Prova? Sì, sì, ci siamo ragazzi, ci siamo, dai che le nostre pentole a 25 euro, vai che si parte con la canzone raga, che è meglio. E per te questo bacio nel vento te lo manderò lì con almeno altri cento e per te forse non sarà molto l'acqua storia lo so meritava più ascolto e magari chissà se lo avessi saputo t'avrei dato un aiuto ma che importa oramai ora che puoi prendere per la coda una cometa si parte per l'universo te ne vai puoi raggiungere forse adesso la tua meta è un mondo diverso mondo diverso che non trovavi mai solo che non doveva andare così solo che tutti noi siamo un po' più soli qui e per te questo fiore che ho sento te lo lascerò lì sotto un cielo coperto mentre guardo lassù sta passando novembre che tu hai letta di te sempre ora che puoi prendere per la coda una cometa e girando per l'universo te ne vai e con le belle note in questa bellissima canzone di Erosa Ramazzotti ragazzi io auguro a tutti quanti voi una splendida serata e mi raccomando teniamo duro ragazzi dobbiamo uscirne quanto prima più forti di prima un bacione a tutti e come sempre un saluto caloroso da Leonardo Appeto